ciao amici pagellone del calcio mercato per quanto riguarda le sette sorelle allora ragazzi innanzitutto vi invito a iscrivervi al canale e di portare un po di pazienza per quanto riguarda il mio profilo instagram che ad oggi è disabilitato grazie a degli errori comunque anche al down di giovedì e di instagram però però contiamo di recuperarlo comunque se non recuperiamo il profilo sicuramente ne aprirò ne aprirò un altro allora pagellone del calcio mercato la peggiore sul calcio mercato secondo me alla juventus voto 5 è vero che prende allegri e rafforza comunque per quanto riguarda il ruolo dell'allenatore si rafforza ma poi prende lucatelli in presso anche una bella operazione facilitata dal sassuolo ma per degli ultimi giorni di mercato cristiano o ronaldo ronaldo non bene rimpiazzato con china che comunque per via del suo carattere è un po un po niconia giocatori con potenzialità importanti ma ancora ancora da 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 scoprire vende demiral non lo rimpiazza si tiene rugani poteva fare molto di più questa questione di ronaldo di certo gli ha bloccato il mercato e secondo me è la peggiore voto 5 napoli napoli voto 6 e mezzo il napoli è vero che non compra nessuno anche se all'ultimo prenda un buon colpo rimpiazzando bagaiogo un colpo anche intelligente prestito con diritto di riscatto ma il colpo più importante è in panchina spalletti al posto di gattuso credo sia un miglioramento e anche che non era scontato non aver venduto nessuno napoli doveva vendere culibali alla fine non ha venduto nessuno e questo è veramente importante per quanto riguarda passiamo all'atalanta atalanta voto 7 l'atalanta fa un bel mercato anche se mi aspettavo di più dopo tre anni di champions league ma vero che vende romero ma prende demiral e non perde secondo me tanto anzi e poi prende l'ovato per la per la panchina in difesa e prende sappagosta come sostituto dell'infortunato a deborre e soprattutto la ciliegina sulla torta del mercato dell'atalanta è coop miners giocatori giocatore importante giocatore anche accostato alla roma e vediamolo vediamo adesso in italia e passiamo al milan milan voto 7 il milan fa vero che perde magna e perde donna rumma e chanaglou chanaglou a parametro zero ma comunque è brava a sostituire donna rumma con magnan pagandolo anche poco 15 milioni di euro non è magnan non è donna rumma ma è un buonissimo portiere rafforza la rosa con florenzi rafforza la rosa con bagaio co ci sono i scatti di tomori di bravian diaz e soprattutto giro giro davanti è un giocatore comunque che anche se è datato in serie a è molto importante prende anche messias ragazzi è un giocatore da non posso valutare messias anche se si è affacciato tardi in serie a è un buonissimo calciatore comunque l'obiettivo del milan che fa quest'anno la champions league era rafforzare la rosa e secondo me alla fine dei conti ci riesce e passiamo alla lazio la lazio anche voto 7 voto 7 perché è vero che perde in zaghi ma prende maurizio sari che è un allenatore forte è vero è vero che prende correa ma lo sostituisce con tre giocatori uno è uno è pedro che è un calciatore adatto alle caratteristiche del gioco di sarvi un altro è sicuramente zaccagni buonissimo calciatore e l'altro ancora è felipe anderson che alla lazio ha fatto sempre bene poi prende isaia parametro zero prende basic comunque un mercato intelligente se andiamo a vedere i soldi che ha speso è un mercato secondo me da da 7 passiamo all'inter l'inter è vero che perde lukaku e akimi ma ci fa 185 milioni e ne spende 35 prendendo gioco prendendo correa prendendo chanaloglu e prendendo danfriz secondo me il l'inter è vero che perde nei primi 11 qualcosa perché lukaku e akimi lukaku è più forte di gioco in questo momento e akimi è più forte di danfriz ma nella rosa secondo me si rafforza anche è vero che perde antonio conte ma simone zaghi è un buonissimo allenatore che può dare anche anche più gioco se andiamo a vedere per quello che è incassato e per la squadra che ancora oggi l'inter secondo me è un mercato molto positivo voto 7 andiamo alla roma la roma per me è la regina del mercato non da difuso della roma ma per quello che ha speso e per come si è rafforzata voto 7 e mezzo se devo dare un voto alla proprietà è 10 10 freaking do 7 e mezzo perché prendere l'allenatore più forti della serie a con i numeri ragazzi non è che ve lo dico così con i numeri come murigno è già è già tanta roba fare l'acquisto più costoso della serie a che abram è tantissima roba e lo stiamo vedendo anche in campo è un giocatore importante che ha rimpiazzato uno spento gioco a roma dando più freschezza più voglia in avanti prendendo show muro dove anche da molta molta freschezza in avanti prende vigna come sostituto di spinassola che si sta dimostrando un buonissimo calciatore per quello che deve fare ma soprattutto rafforza anche il ruolo del portiere con lui patrizio a posto di due dei due portieri delle case popolari che avevamo lo scorso anno e non do di più di sette e mezzo perché perché è vero di tutte le premesse fatte in precedenza però 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 la roma ancora non è completa però la roma vende 30 giocatori è vero che tanti sono esuber invendibili è vero che tanti sono primavera ma è vero che magari col sen qualche soldo ci si poteva fare è vero che con florenzi si poteva fare qualcosa di più anche clivert e soprattutto under alla fine dei conti la roma un disavanzo davvero importante 85 milioni spesi e 95 milioni spesi e 10 incassati fanno 85 milioni e questa è tanta roba è quella che ha speso di più sul calciomercato in italia e ancora non riesce a essere completa al 100 per cento teniamo un centrocampista uno due centrocampisti di troppo non diciamo non voluti proprio da morugno e non si è presa la la ciliegina sulla torta che è questo centrocampista però alla fine dei conti il mercato è ottimo e sicuramente la roma è quella che si rafforza di più rispetto allo scorso anno questo però non vuol dire che la roma è la squadra più forte no per me la squadra più forte è l'inter se devo fare una mia classifica do l'inter ancora in testa distaccata come rosa la dopo ci metto ancora la juve anche se per sbagliati motivi la juve la metto nel carderone nel senso che dopo l'inter secondo me ci sono sei squadre che si giocheranno i tre posti per la champions league e queste sei squadre chi più che meno chi per un difetto chi per un altro le colloco quasi tutte allo stesso posto nel senso diciamo è un campionato equilibrato per quelle sei vedo solo l'inter distaccata ragazzi se vi è piaciuto il video un bel like lasciate un commento iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina dai e vi voglio bene vi aspetto e a presto anche su instagram grazie